Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un'isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune, sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina e gli ho consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male ha vomitato l'anima e l'hanno portato via ha raccontato la Vezzali ai compagni di avventura parlando di Joe Bastianich. L'atleta ha poi aggiunto, ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere. Bastianich, a quanto pare è stato molto male. Immediatamente soccorso dai medici, è stato portato in infermeria per una serie di controlli. L'ex giudice di Masterchef potrebbe lasciare il format prima del previsto. E per Luxuria, Eko sarebbe una grave perdita visto che è tra i naufraghi più apprezzati dal pubblico. Grazie. 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 Grazie.